Anche questa volta, l'ex tronista Francesco Monte non ce l'ha fatta. È sfumato per lui il sogno di rappresentare San Marino all'Eurovision 2023. Francesco Monte è stato eliminato dalla competizione Una Voce per San Marino. Il contest. Indetto per trovare il rappresentante dello stato a Eurovision Song Contest 2023. Si svolge attraverso varie fasi. Tra i partecipanti provenienti dall'Italia, anche l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che ha presentato la sua canzone, Eclissi. Il brano ha convinto la giuria nei primi step fino alla prima semifinale. Ma poi non è stata scelta per accedere alla seconda semifinale. In ogni round della semifinale, infatti, si scelgono i cantanti che si sfideranno sabato 25 febbraio. Lo scorso anno, attraverso il contest, era stato scelto Achille Lauro. Pamela Prati bloccata Una Voce per San Marino. Eliminata Ginevra Lamborghini. Per Francesco Monte si tratta della seconda occasione sfumata. L'ex Gieffino, infatti, aveva già provato a partecipare lo scorso anno al concorso per trovare il rappresentante di San Marino all'Eurovision. Oltre a lui, quest'anno, altre due ex concorrenti del grande fratello VIP hanno tentato di conquistare un posto alla finalissima. La prima è Ginevra Lamborghini. Che ha presentato il brano, Tu non mi vuoi. La performance non è stata convincente per la giuria e nemmeno per il pubblico. Pertanto non ha raggiunto nemmeno la fase della semifinale. L'altra ex concorrente del GF VIP è Pamela Prati. Per lei il discorso è differente. In quanto non ha potuto prendere parte alla competizione per via di un contratto in esclusiva con Mediaset. La showgirl Sarda, infatti, non avrebbe ricevuto l'autorizzazione dall'azienda per esibirsi. Finalisti di una voce per San Marino. Moreno Donadoni a Eurovision. Tra i finalisti che gareggeranno sabato per aggiudicarsi la possibilità di cantare per San Marino all'Eurovision Song Contest molti italiani. Tra cui anche legati alla scuola di Maria De Filippi. Tra di loro, Elinora che dopo aver superato alcune selezioni non è riuscita a conquistarsi un banco nel talent di Canale 5. Un altro nome legato al programma è quello dell'Edeva. Nel gruppo tutto al femminile ci sono Greta Manuzzi e Verdiana Zangaro. In gara per San Marino ci sono anche il rapper Moreno. Vincitore della dodicesima edizione del talent di Maria De Filippi. Emanuele Aspidi. Che aveva preso parte alla quarta edizione della trasmissione. Nonostante le voci provenienti dal talent siano tutte molto promettenti. Però, il pubblico dà per favoriti gli Eiffel 65. Gruppo musicale dance popolare tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. L'Italia, invece, presenterà in gara Marco Mengoni. È consuetudine, infatti, che il partecipante italiano dell'Eurovision Song Contest è il vincitore del Festival di Sanremo. Grazie a tutti.